Miguel de Cervantes è stato uno scrittore, romanziere, poeta, drammaturgo e militare spagnolo. È universalmente noto per essere l'autore del romanzo Don Quixote, uno dei capolavori della letteratura mondiale di ogni tempo, ma in pochi sanno che Atri fu il vero luogo di ispirazione per la sua opera. Il Cervantes, infatti, nella premessa dell'opera Galatea, dedicata da Scanio Colonna, ricorda di aver servito come camarero ad Atri i duchi di Acquaviva e, in particolare, Giulio Acquaviva. Il romanziere descrive soprattutto il carattere sui generis del giovane cardinale Giulio Acquaviva, un uomo maldestro, esaltato, maniaco di avventure, di gloria e incapace di innalzarsi al di sopra della realtà. Le loro prime relazioni si strinsero a Madrid nel 1569, dove Giulio Acquaviva era stato inviato da Papa Pio V per presentare a Filippo II le condoglianze per la morte del figlio, il principe Don Carlos. Nel 1571 la famiglia Acquaviva partecipò alla grande flotta della Lega Santa nella battaglia di Lepanto e fu così che il Cervantes fu inviato in guerra dal nobile Atriano con la squadra dell'ammiraglio Agostino Barbarigo, prendendo parte agli scontri militari assieme a Orazio Acquaviva, figlio di Giovanni Rolamo. Sebbene febbricitante, fu costretto a combattere e, ai fianchi della sua galea, su un battello con dodici uomini ai suoi ordini, si lanciò nella mischia. Fu ferito al petto e alla mano sinistra che gli rimase rovinata per sempre. A Messina, dove la flotta fece ritorno, fu ricoverato presso l'ospedale maggiore della città. Fu proprio in Sicilia, in quel momento delicato della sua esistenza, durante la convalescenza, che gli iniziò a scrivere il suo capolavoro, il Don Chisciotte della Mancia. Memore che la causa della perdita dell'uso dell'arto sinistro fosse la partecipazione alla battaglia di Lepanto, su ordine e costrizione del Giulio Acquaviva, in molti ritengono che l'opera venne dedicata proprio al maldestro nobile Atriano, vero ispiratore quindi del Don Chisciotte. Infatti il nome del personaggio del romanzo deriva dalle chisciotte dei pantaloni, leggermente bombati in ventre e di color rosso indossati abitualmente dal giovane 24enne Giulio Acquaviva. Lo scopo di Cervantes con il suo romanzo fu quello di sottolineare l'inadeguatezza della nobiltà dell'epoca a fronteggiare i nuovi tempi che correvano in un periodo storico caratterizzato dal materialismo e dal tramonto degli ideali, ironizzando su un personaggio o più personaggi che governavano al tempo e vendicandosi in maniera leggera dell'uomo che causò le sue menomazioni fisiche e che lo trattò in quel modo triviale che tutti sanno, costringendo il misero poeta a cercare miglior sorte altrove.